Mezzo meccanico che si è messo in movimento è andata subito a rete Egalite che era piuttosto ardente e che è anche l'unica femmina in questo campo di sette partenti è entrato in pista senza effettuare false partenze TN Joy che ora cerca di recuperare e andare ad allinearsi con gli altri sei che sono tutti bene a rete 150 metri allo stacco della macchina rinuncia al lancio TN Joy all'esterno partono forte Galite e Tomo Jet al loro interno reagisce Euclide e cerca di fare altrettanto anche Esodo Jet imitato poi più all'interno da Enzo Fabio Jet e Everett Griff ci sono sei cavalli in linea con l'errore di Everett Griff e l'errore di Enzo Fabio Jet l'errore anche per TN Joy c'è stata davvero tanta bagarre perché erano in sei su due una linea e adesso dall'esterno Egalite che sta scavalcando En Tomo Jet il quarto di avvio in 29.8 c'è stato ora l'errore anche per Esodo Jet e allora i superstiti sono Egalite En Tomo Jet ed Euclide inseguiti ad intervallo da Etienne Joy rallenta ora vistosamente il battistrada Egalite va a completare la prima metà gara in 1.2 abbondante muove dalla terza posizione Euclide che affianca in Tomo Jet si riavvicina e TN Joy Euclide che va all'attacco di Egalite completamento del primo giro in 1.17.3 ma 14.8 per l'ultima frazione con la quale Euclide va ad incalzare Egalite che reagisce poi En Tomo Jet ed Etienne Joy ancora una frazione veloce in 14.7 con Egalite che replica ad Euclide poi En Tomo Jet senza spazio quindi Etienne Joy la retta d'arrivo vede Egalite alla corda Euclide che insiste a largo Etienne Joy che ci prova più in fuori Entomo Jet che non ha spazio all'interno insiste Euclide attacca a fondo Egalite che allarga e allora c'è il varco per Entomo Jet Entomo Jet che può scattare lungo la corda gli altri sono tutti stanchi passa Entomo Jet nei confronti di Egalite ed Euclide Entomo Jet che vince a sorpresa davanti a Egalite e Euclide numeri 5.6.4 per l'arrivo ufficioso della prima di Capanelle un decisamente normale 2.4.5 per la vittoria di Entomo Jet e Marco Minucci 1.17.8 per il portacolori della FAMI allenato da Dario Battistini varco interno sfruttando l'allargamento della stanca Egalite che si difendeva bene da Euclide e da Etienne Joy Egalite respinge i due attaccanti all'esterno ma allargando favorisce lo scatto lungo la corda di Entomo Jet che aveva seguito spettatore interessato per tutta la corsa e nel finale passa nettamente vince il figlio di Igor Font nei confronti della stessa Egalite con Euclide al terzo posto 5.6.4 l'arrivo ufficioso della prima di Capanelle grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti